Raffaele Paganini che cosa che cosa dire intanto per noi è un onore insomma per noi di Telemolisi ospitarla perché insomma di lei parla la biografia voglio dire c'è poco data l'età come dire no oramai con l'età avanzata vabbè dice è chiaro che qualcuno diceva dice ma Paganini Paganini il nome lo precede ma è il vero ma non era il mio nome il nome di quello originale del violinista quindi è vero che il mio nome mi precede ma grazie a forse un avo violinista il mio avo violinista che tra l'altro non si ripeteva mai è vero Paganini non ripete ma sapete perché non ripeteva lo dico lo dico velocemente per tutti quanti perché nel suo concerto e a un certo punto durante una sua sinfonia gli si erano rotte tutte e quattro le corde e quindi era rimasto con una corda sola alla fine ha rotto anche quella e non poteva fare il bis e tutti dicevano bis 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 allora da lì Paganini non ripete e quindi io sono il Paganini che invece ha ripetuto tantissime volte va bene lei è un figlio d'arte perché perché insomma suo padre ballava sua madre cantante non ha iniziato prestissimo no ha iniziato anzi tardissimo perché non credevo la danza non fosse il mio mondo ero quasi convinto che la danza non lo fosse invece poi ho iniziato aveva ragione mio padre evidentemente lui era già comunque un danzatore vedeva in me qualcosa come che io vedo adesso con i ragazzi no mi rendo conto subito se un ragazzo ha la possibilità o meno e lì lui appunto ha insistito fino a che all'età di 14 anni mi ha portato quasi un po di peso di forza ho iniziato e da lì ancora lo ringrazio perché è stata è stata poi la mia vita no la mia vita sono i miei figli però è stata una parte della mia vita la danza è stata una bella parte della mia vita certamente tra l'altro unico ballerino di tutta quella numerosissima famiglia no beh diciamo no e erano altri c'erano altri eravamo quattro maschi ballerini poi anche due due ragazzi hanno fatto danza hanno studiato poi però hanno fatto altro ma quattro professionisti siamo diventati io alfonso augusto e fabbrizio tutte quattro del teatro dell'opera di roma e siamo andati tutti e quattro al teatro dell'opera di roma poi ognuno di noi ha scelto la carriera io sono partito sono andato all'estero è però insomma tutti quanti abbiamo fatto quattro di undici hanno fatto danza senta lei praticamente ha vissuto tutti gli apici che si possono vivere in una carriera famosa io mi ricordo nora e poi mi ricordo poi mi ricordo baganini perché cronologicamente eravamo c'era lui poi c'ero io era proprio in effetti lui è stato il mio maestro lui è stato uno di quelli che che mi ha scoperto figuratevi che quando io vivevo in inghilterra io ho vissuto per quattro anni in inghilterra praticamente vivevo a casa sua perché lui in quel periodo era direttore all'opera di parigi e quindi mi mi lasciava a casa mi diceva vai a casa mia stai là eravamo molto molto amici e anche perché insomma voglio dire lui era è stato è stato il più grande danzatore di tutti i tempi senta è un'arte difficile è un'arte molto difficile che deve essere presa con la con la giusta leggerezza però un'arte molto difficile alla quale si devono dedicare almeno dalle dalle 6 alle 8 ore al giorno e questo è quello che quello è stata è stata la mia carriera questo è stato 8 ore al giorno tutti i giorni e poi spettacolo la sera e poi la mattina di nuovo alla sbarra fare la lezione riprendere nel frattempo sono stato anche bravo perché mi sono anche sposato ho fatto due figli e questa è stata insomma la mia più grande soddisfazione perché di solito per fare una carriera così a livello perché io negli anni 90 ho rappresentato la danza italiana nel mondo e quindi ero proprio l'esponente della danza della danza mondiale e non è non perché fossi più bravo perché c'ero solo io capito il problema era questo non volevo farmi un non è vero non c'era solo lei lei era sicuramente il più bravo perché insomma un po mi sono documentato i più grandi teatri ha ballato con le più grandi ballerine da carla fracci insomma a tutte sandra ferri blitzesca ma caro un po tutti tutti perché facevano parte di quella di quell'epoca no io diciamo che avendo iniziato a 18 anni e mezzo 19 anni sono diventato professionista e ho iniziato a girare il mondo come come danzatore e ho avuto loro erano un pochino più grandi di me una generazione avanti alla mia precedente alla mia però erano comunque giovani io avevo vent'anni non erano 30 32 erano ancora molto giovani quindi lavoravamo spessissimo insieme e proprio cronologicamente ho fatto tutta la carriera insieme a questi grandi grandi nomi della danza mondiale mi capita alle persone molto molto famose a un certo punto fanno tantissime altre cose perché insomma so che lei è sfogliato anche da cantante da attore ha partecipato a talk show insomma ha fatto di tutto ha fatto pure l'isola dei famosi ho fatto proprio a proposito ma com'era lì mamma mia difficilissimo durissima sono stati due mesi io sono stato un cameraman non passano niente no 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 non possono fare assolutamente nulla altrimenti vengono vengono licenziati e quindi noi e beh era veramente stato io sono stato un mese e mezzo su due durava due mesi l'isola sono stato questo mese e mezzo ho buttato via 10 kg sono 11 non mi ricordo 10 11 kg quindi da uno io sono già esile già magrolino e ho perso perso tanti chili poi il fatto di di fare un po tutto quanto sì ho fatto ho fatto tutto perché ad una certa età a 35 36 anni ho deciso di di smettere con la danza classica ma la danza classica intesa come il repertorio perché io facevo il repertorio il repertorio significa che era lago dei cigni la bella addormentata schiacciano ci facevo quel tipo di danza e poi la danza classica lo studio per tutte le danze lo studio della danza se poi uno sceglie ognuno sceglie il proprio repertorio e smesso di fare quello intorno ai 35 anni ho iniziato a studiare con un po con mia mamma un po un po a scuola con gli insegnanti di canto di recitazione e mi sono mi sono ho giocato a non giocare un gioco mi sono anche un po divertito no perché ho iniziato a fare musico il cantavo recitavo ballavo e adesso sapete che io ho avuto qualche anno fa un piccolo piccolo grave incidente in moto e quindi sono stato fermo per due anni adesso ripreso ho deciso di smettere deciso ho dovuto smettere di ballare ma adesso la cosa bella è che sto tirando fuori tutta quell'esperienza che ho avuto negli anni e la sto la sto regalando ai giovani ai ragazzi e questa è una grandissima soddisfazione sono molto molto fiero ecco qui all'arabesca con la sua amica la nostra amica Irene Fratangelo evidentemente un rapporto che insomma nasce e si consolida noi abbiamo avuto con Irene già l'occasione di incontrarci anni fa in una in una scuola di danza a Roma abbiamo frequentato la stessa scuola lei è più giovane molto più giovane di me Irene chiaramente però abbiamo frequentato la stessa scuola e poi adesso ci siamo rincontrati un po da grandi da grandicelli e probabilmente io sarei felice se insomma questo questo rapporto di lavoro dovesse continuare insomma mi farebbe molto 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 piacere ma non tanto per quello che riguarda noi ma per quanto riguarda i ragazzi no anche se non fosse qui magari in un altro paese un'altra cosa comunque se se Irene e i suoi ragazzi dove mi vedono mi sentono riescono a seguirmi questo a me farà molto piacere perché perché i ragazzi hanno bisogno proprio della nostra esperienza quella che noi abbiamo maturato sulle tavole sul palcoscenico ne hanno assolutamente bisogno e noi anche involontariamente regaliamo tante tante emozioni e poi insegniamo anche la danza chiaramente va bene noi saremo lieti naturalmente di ospitarla anche perché il Molise è una regione piccola però insomma c'è tanto cuore tanta generosità e tra l'altro noi come emittente insomma copriamo anche il Lazio compreso Roma l'Abruzzo quindi infatti io vi conosco bene e quindi voglio dire io la se lei dovesse tornare insomma ci consideri veramente a sua a sua a sua completa disposizione io volevo chiederle lei ha parlato anche dei figli uno in particolare perché insomma sa le trasmissioni sportive vivono molto di calcio questo Luca che gioca nel Frosinone ogni tanto glielo chiedono ma com'è che non hai fatto danza? No lui hai iniziato con la Roma con Bruno Conti con lui con Bruno Conti che l'aveva visto allenarsi così e gli ha detto ma perché non viene fa il provino a Roma e questo ragazzino aveva mi piace ballare no 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 a lui no no non abbiamo ancora parlato di danza perché io non ne io né mia moglie abbiamo mai pensato di imporre scusate di imporre la danza ai nostri figli quello che vogliono fare poi il nostro dovere è il dovere dei genitori seguirli ovunque loro decidono di andare ma a parte questo e lui è andato nella Roma è stato per sette anni con la Roma poi si è fatto male a una gamba ha avuto un problema e poi insomma varie vicissitudini poi c'era questo provino al Frosinone ha fatto era un pochino più grande aveva 14 anni ha fatto provino al Frosinone è entrato e ha fatto tutta la carriera lì e da lì ha fatto dai bambini dai giovanissimi Lega Pro serie C serie B serie A e e voilà e adesso ci va a vederlo tutte le settimane tra l'altro io sono ospite fisso a quelli che il calcio ospite fisso insomma quando posso andare perché poi ci sono alcune domeniche che sono che ho già impegnato e vado spessissimo o a quelli che il calcio quando quando vengo ho detto sono fisso ma non è vero no sono molto spesso ospite oppure se non dovessi andare a quelle calcio me lo vado a vedere in campo Raffaele mi consente un'ultima cosa perché io le voglio esprimere veramente la mia soddisfazione i miei complimenti perché sa trovarsi di fronte insomma ne ho intervistato qualcuno nella mia carriera perché insomma io sono più anziano di lei meno giovane di meno giovane di lei però insomma devo dire che trovarsi di fronte a un monumento in un'arte nobile qual è quella della danza come lei causa una certa diciamo non apprezzione però insomma può provocare ma piace però le devo fare i complimenti perché lei non è non è soltanto un grande personaggio non è stata una grande stella di quest'arte nobile e dello spettacolo in generale ma è una persona umile e modesta io credo che alla fine il successo vero di un uomo è questo un personaggio deve deve passare attraverso l'umiltà perché altrimenti attraverso le persone perché altrimenti non va bene io io sono è quello che ho insegnato anche a luca adesso luca chiaramente io in questo momento sto diventando spero sempre di più mi auguro sempre di più il papà di luca paganini perché la gente insomma il calcio è talmente eseguito tutti fanno guarda chi c'è il papà di luca paganini che è molto carino io sono fiero di questa cosa mi fa mi fa venire i brividi però insomma io ho sempre insegnato a luca che la nostra forza è la gente che ci segue che ci vuole bene che ci ama quindi grande rispetto per la gente e grande rispetto per l'arte che che sia calcio che danza che qualsiasi altro tipo di sport o di o di o di altra cultura sportiva bisogna sempre portare rispetto all'arte e a se stessi e questo rispetto all'uomo allora ci diamo un arrivederci arrivederci prestissimo anche